Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. C'è stato il sorpasso, il sorpasso nella classifica dei più ricchi del mondo. Zuckerberg, il patron di Meta, ha superato Elon Musk, il patron di Twitter e di Tesla. Dunque, nella classifica dei super ricchi c'è stata una novitas degna di rilievo. Si parla di quell'1% che comanda il mondo, la classe capitalistica transnazionale, o se preferite la plutocrazia neoliberale no border, la quale detiene nelle proprie mani ricchezze che superano quelle della restante parte dell'umanità. Ebbene, al di là del fatto specifico per cui Zuckerberg ha superato Musk, è interessante rilevare come si stia davvero producendo quella che Marx nel capitale chiama la centralizzazione dei capitali. Cosa vuol dire? Vuol dire che sempre più capitali si concentrano nelle mani di sempre meno persone e questa centralizzazione economica produce anche, come ha sottolineato giustamente l'economista Emiliano Brancaccio, una centralizzazione politica, poiché chi detiene il grande capitale detiene poi anche il potere politico e non per caso la classe transnazionale capitalistica è quella che sempre più comanda il mondo, con riunioni come il gruppo di Davos, di Bilderberg e così via. Insomma, il capitalismo dominante sta producendo una società sempre più asimmetrica, sempre più simile a quella del 1984 di Orwell, che Orwell chiama collettivismo neoligarchico, in alto una oligarchia plutocratica e in basso una massa sterminata di descamisados, di nuovi miserable privi di tutto e financo della dignità e dei diritti. Dal resto, come si dice nelle locandine del World Economic Forum, nel 2030 non avremo più nulla e saremo pure felici, in quanto resilienti, cioè schiavi ideali del potere.